Assessore, in questa tappa salentina non solo valorizzazione del vino ma anche valorizzazione della cultura enogastronomica in toto, pugliese soprattutto ovviamente. E' un binomio vincente per la Puglia? Beh, è un binomio che ci ha permesso di essere citati dal Premier durante l'inaugurazione della Fiera di Levante. Ovviamente abbiamo avuto questo apprezzamento da parte del Presidente Renzi perché come Puglia oltre ad essere stati bravi a utilizzare tutte le risorse che avevamo a disposizione, mi riferisco alle risorse comunitarie, e siamo stati premiati perché la Puglia ha raggiunto un livello nel settore enogastronomico ma nel aver riportato l'agricoltura a livelli che finalmente veniamo citati anche in altri paesi per questo e lo tocchiamo con mano, abbinando tra l'altro i nostri prodotti alla nostra terra riusciamo a trasferire anche grande interesse dal punto di vista turistico e non solo. E questo ci rende entusiasti ma soprattutto ci permette anche di ragionare per poter in qualche maniera indirizzare le prossime risorse comunitarie in maniera sempre più attenta nei confronti della nostra terra e quindi della nostra agricoltura che ci sta dando questi grandi risultati. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo porre ancora più attenzione, quindi fortunatamente quest'anno abbiamo già chiuso il programma di sviluppo rurale questa settimana, la prossima settimana lo consegniamo a Bruxelles, quindi entro dicembre ci auguriamo di avere l'approvazione per poter andare poi a costruire i primi bandi a gennaio e su questo sono contento e soddisfatto per il lavoro fatto perché abbiamo chiuso un programma di sviluppo rurale condiviso con tutte le organizzazioni, con tutte le associazioni e la prima volta credo che le associazioni firmano un documento di condivisione del lavoro fatto. Un partenariato socio-economico che ha riconosciuto il lavoro fatto, poi ho voluto anche allargare il partenariato anche ad altri soggetti perché mi sembrava giusto coinvolgere tutti, per cui abbiamo scelto tutti quanti insieme di che agricoltura vogliamo nei prossimi sette anni qui in Puglia. Qualche giorno fa abbiamo anche fatto, devo dire, un altro miracolo, in rendicontazione siamo riusciti a mettere da parte qualche altra risorsa per fare impianti di spumatizzazione, un'altra cosa che mi hanno richiesto non appena io mi sono insediato e abbiamo portato a casa anche quest'altro risultato, promessa fatta e bando tenuto, per cui un'altra attenzione nei confronti di questo mondo, quello del vinicolo che dobbiamo sempre più valorizzare e anche la spumatizzazione mi sembrava giusto finanziarla perché fino a ieri molto si faceva in altre regioni d'Italia e così come siamo stati bravi a produrre il nostro vino e non portare più il mosto in altre regioni, adesso lo facciamo anche per gli spumanti perché li produciamo qui nella nostra regione. È una delle iniziative che il Movimento Turismo del Vino ha calendarizzato per quest'anno. Quest'anno noi diamo spazio al Negramaro, gli altri anni lo abbiamo fatto con il Nero di Troia, il Primitivo, che assieme al Negramaro sono i tre vitigni simbolo della Puglia. Comunicare il vino, il territorio del vino è un obiettivo, una mission che da sempre porta avanti il Movimento Turismo del Vino perché la conoscenza della cultura e dei territori di un determinato vigneto sono importanti per poter promozionare e vendere sempre di più i nostri vini all'estero. Questa è una tappa tra le tante, lo abbiamo fatto a Copertino con una location molto interessante, importante che parla della storia di questo territorio, cioè nel Castello di Copertino. Continueremo con altre attività che riguardano tutti i vini della Puglia con un road show che nei prossimi mesi toccherà i due mercati più importanti d'Italia che sono Roma e Milano. Quando mi hanno fatto la proposta di piantare sugli spalti del Castello di Copertino una vigna io sono rimasto molto perplesso. Poi abbiamo sviluppato una documentazione abbastanza attenta di quello che era il Castello nelle varie fasi della sua storia e abbiamo scoperto che alla fine dell'Ottocento il Castello con gli ultimi feudatari, Belmonte, era diventato anche sugli spalti un giardino, un giardino di primizie, di egrumi e erano coltivate anche delle vigne. Quindi il Castello in quella fase della sua storia aveva assunto l'aspetto di un giardino di delizie e serviva appunto per le feste, per rappresentanza. E quindi abbiamo deciso di promuovere un'esposizione temporanea di come doveva essere in quel tempo. Quindi abbiamo detto di sì e come se questa fosse una mostra d'arte di com'era il Castello alla fine dell'Ottocento. E questo ci sembra un modo di valorizzare il Castello e un altro itinerario che può essere promosso a tutti quelli che avvengono e anche un modo di far conoscere quella che è la cultura gastronomica.